Tele più uno, il cinema, in doppio audio. Su Tele più uno, questo mese, sei iscritta al torneo. Sei, sei molto bella. I complimenti vi metto di imbarazzo. Ed ecco duemila cavalieri che passano sul mio corpo. La terra tremava, la sentivo vibrare sotto di me, finché non mi ha preso la morte. Mamma, hai mai avuto i miei anni? Ma no! Facalo! Mio Dio, tu la ami, non è vero? Si bussa prima di entrare! Dammi le biglia rosa, mia diretta. Non è il genere di cose che approvo, ma tutto sommato posso fare un'eccezione. Ho sentito parlare molto di me. Nove anteprime televisive per il grande cinema in esclusiva. Questo mese goditi lo spettacolo su Tele più uno. Chi ha grande successo concede sempre un bis. Per questo Tele più torna a maggio con la promozione Chi trova un amico riceve un regalo. Sei in regola con l'abbonamento? Allora partecipa anche tu. Presentaci un amico entro il 31 maggio. Puoi regalargli tutte le emozioni di Tele più e due mesi di abbonamento gratuiti. E ci sono anche due mesi di abbonamento gratis per te. Consulta la guida ai programmi di maggio. Una grande amicizia merita le emozioni di Tele più. Un volontario. Carrozzeria in lega. Come supermater, la nuova caldaia per esterno. Ma non occorre uscire.